Se quel pello di vettura può dirci che è forzata e forte, forse mi dirà che cos'è un oretto. Accendi la patrocchia. Oh! Affascinante! Che cosa è successo? In qualche modo, invece di spregionare l'energia, tu l'hai assorbita. Probabilità che fare con il fatto che non sei un vero... Un vero buffo? Avanti, puoi anche dirlo. No, io volevo dire che questa macchina non è fatta per un buffo che ha le tue... beh... origini. Sì. Sì, va bene. Ho capito. Pocchi occhi! Ehi, sai che facciamo? Andiamo tutti a divertirci! Sì! Pizzola! Ma non va bene! Por favor! E' qua l'ha pronto! ...e' questa nuova vita con il suo stile a un grande classico della canzone italiana. Con il Pur mi son scordato di te, di Lucio Battisti. Luna! Ruote capsule More Express, le prime capsule in a me nel tuo supermercato. L'oro immagini qualcosa mio. guarda che mi ha mandato un messaggio a dime Callister deve essere un errore o uno scherzo o una toffa non dare il numero della toffa pagata attentos è proprio lì questo è il nostro utente Alex e come ogni studente liceale tutta la sua vita gira intorno al suo cellulare e tanto che il ritmo della vita si fa sempre più veloce via i telefoni in 5 secondi e la soglia di attenzione si fa sempre più bassa tanto che probabilmente già ora non mi starete più ascoltando chi ha il tempo di digitare parole intere ed è qui che entriamo in gioco noi l'invenzione più importante nella storia delle comunicazioni le emoji questa è casa mia messaggiò qui ognuno di noi ha un solo e unico compito che dobbiamo essere perfetti sempre l'albero di Natale deve sempre stare in piedi con le fustose